Parampam pam, parampam pam, parampam pamam Caspiterina, eccovi! Ci divertiremo tantissimo tutti insieme! Parampampam, parampam pam Perfetto! Oggi ho voglia di fare musica! Ehi, che ne dite di fare musica con me? Bene! Allora, usiamo la bocca per canticchiare E ora, si canta! la 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 faccio la musica insieme a voi do da li do e fantastico ehi mi piace questo suono possiamo usare il corpo per dare il ritmo battete le mani velocemente battete le mani lentamente e ora diamo il ritmo con ciò che abbiamo intorno colpite con la mano così che altro possiamo usare si i piedi coraggio vestiamo i piedi al ritmo pesta 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 è divertente vi va di fare una jam session vuol dire che possiamo suonare quello che vogliamo tutti insieme pronti per la musica ok forza wow adoro fare musica con voi grazie di essere stati con me e fino alla prossima puntata passate una musicale topo giornata grazie a tutti grazie a tutti